Salve a tutti, siamo qui con l'episodio 9 di Crysis 3 e l'ultima volta se avete visto l'episodio comunque è linkato nelle annotazioni saprete che siamo arrivati a questo punto e siamo morti, cosa che in qualche secondo rifaremo adesso perché questo livello è tutto di occultamento ma non so perché muoio continuamente, ecco l'energia è scarsissima è davvero scarsissima, finisce subito perché ovviamente si cammina e niente, facciamo del nostro meglio, andiamo piano anche se un'attacchetta ogni secondo diciamo abbiamo pochi secondi per arrivare fino dall'altra parte e qua è pieno di nemici quindi o li uccido tutti ma, 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 ma Gesù, ecco appunto o li uccido tutti e ci metto 3 ore però sgombra la strada e arrivo lì semplicemente oppure continuo così a fare il, come si può dire, il pigro che vuole arrivare direttamente lì senza uccidere nessuno o il figlio dei fiori però così muoio ogni volta perché e poi perché ho un colpo solo di quest'arma ok nuova arma ecco questo è un robot bastardo perché ogni volta che ci andiamo vicino ci trova adesso ci troverà di nuovo ci farà scoprire davanti a tutti perché non ho capito se ha che cosa fa se ha calore non lo so ecco appunto avete visto non ho ben capito il perché ma ci uccide ok munizioni standard oh finalmente abbiamo almeno 160 munizioni kit di potenziamento nanotuta ecco questo è figo granate, ok il fucile da cecchino prenderai in posto di questo anche se questa è una vera bomba è fortissimo come avrete già ah devo mettermi qua dentro in questa capsule ah in questo ascensore fatto abbiamo fregato la torretta nanotorretta o come la volete chiamare ha gli spasmi oculari il mio amico ha gli spasmi oculari se esistono non so vediamo il mirino com'è ui ma tanto tanto ho già il visore cioè che cosa mi serve un mirino così che ho già il visore posso va bene lo stesso dai cultiamoci che 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 cazzo di posto è ma che cosa serve un posto del genere e c'è poi raggiunto alla buona ora perché non so dove devo andare ah o lì o lì forse da tutte e due le parti c'è qualcuno che rompe i coglioni cabasisi qualsiasi cosa con qualsiasi nome lo chiamate bene sembra una missione per pimpa ancora questi spasmi oculari finiscila mi sa che si è fumato con gli amici della gangia una gangia futuristica comunque sia come cazzo facciamo ad arrivare lì perché mi sa che questa roba è radiattiva ma noi saltiamo lo stesso che tanto il nostro amico qua eh io l'avevo detto che era roba radiattiva ah ma si può saltare anche quando si è nell'acqua come facciamo adesso è questo oh mio dio che ah credo che abbiamo svelato il mistero l'arcano ah ecco fatto ok 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 colpo di culo e si fa tutto avanti c'è poi raggiunto senza sparare un colpo ecco questa è stata una cosa figa nessuno ci ha disturbati nessuno ci ha ecco adesso inizia mio dio mio dio torretta d'assalto ma che cosa significa ah vediamo se riusciamo a distruggere la nostra torretta da sfa eh si d'asfalto la nostra torretta d'assalto ok il nostro amico ricarica alla buonora figlio ah esploso tutta l'energia dell'esplosione è partita no un colpo abbiamo finito i colpi ma com'è possibile che ci abbiano rifornito solo di 5 colpi ah ma questo questo coso questo ah si sposta dimmi che esplodi dimmi che esplodi ok intanto l'energia c'è tornata ci mettiamo la corazza fatto esploso fatto ce l'abbiamo fatta abbiamo ho tolto la 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 ah mi sono non ho vi non ho controllato ma questi sono cose esplosivi ma noi ci passiamo lo stesso perché con la corazza ci passiamo che è successo? come non è successo niente ah forse erano attivate da quello e bobo non ci interessa torniamo su ancora le visioni deja vu ok adesso a che piano andremo? l'ultimo piano in alto bello comunque questo ascensore accogliente simpatico con le porte apriti sesamo oh ogni piano ha tutte le sue caratteristiche Gesù potevate dirmelo ma se io questi no 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 cosa? tu mi stai prendendo per i fondelli ragazzo ero lontano un miglio come hai fatto a sentire che ero lì che ma muori ok energia scarsa probabilmente munizioni scarse andiamo benissimo allora prendiamo lo scar ma non a posto del jack jackass gg a posto di questo prendiamo questo qua questo qua g termico un fucile a pompa non ho mai provato un fucile a pompa in questo gioco se devo dirla tutta adesso che ci penso sembra sembra figo ma mi sa che non va tanto soprattutto da lontano come ogni fucile a pompa vieni qui bello fatto a quanto stando alla minimappa ci rimane solo uno da uccidere fai fuori quei bastardi eh li sto facendo fuori oh siamo tipo nell'headquarter bene no perché ho saltato boh va benissimo lo stesso ok quindi questa missione è finita sono 8 minuti e mezzo di video quindi va benissimo un altro trofeo ragazzi quindi ogni 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 capitolo abbiamo un trofeo ci vediamo tutti con una nuova puntata la puntata 10 arrivederci a tutti